L'effetto Burian si combatte coprendosi, infatti, cappello, sciarpa e giubbotto e camminare, camminare in maniera che ci si può scaldare. Burian è arrivato anche ad Arezzo, temperature minime impicchiata in tutta la provincia e cittadini nella morsa del gelo, ma come si sono preparati e soprattutto come stanno affrontando gli aretini quest'ondata di gelo siberiano? È freddo, è freddo, però dai, si sopporta bene. La macchina comunale si è messa in moto per tempo, insomma, ci sono stati disagi? Ma io non ne ho visti, non ne ho visti, francamente non ci ho fatto caso. Lei era pronto, insomma, a quest'ondata di gelo? Sì, io stando a casa ho acceso il fuoco, quindi la legna non ci mancava. Quindi ha risolto? Ho risolto il problema. È abbastanza gelata, sì, la situazione, anche io sono un po' in dolare, insomma, è un po' difficile affrontare anche i viaggi, perché venendo da Siena è un... non era... qui mi sembra molto meglio come tenuta, le strade, anche la polizia, il sale è stato, insomma, sparso, ma nella mia città un pochino di meno, magari si era meno organizzato. Ecco, i pendolari come vivono? Ci sono stati dei disagi? Eh, ieri sì, ci sono stati molti disagi, perché per affrontare, anche per uscire dalla città, entrare nelle strade principali, ho sentito anche dei colleghi che vengono con il treno e insomma, hanno avuto delle difficoltà, sì, insomma, è un po' congezzata tutta l'Italia, ecco. Ecco, il ghiaccio è sicuramente il problema maggiore in questi giorni? Sì, sì, il ghiaccio... diciamo che anche... comunque gli addetti a lavori si stanno muovendo, insomma, ma ecco, non è che siamo soli, logicamente non è che siamo abituati a questi freddi improvvisi e quindi il disagio nei primi giorni c'è. Come ci si ripara? Coprendosi. Il vento, il vento che mi ammazza, poi per il resto tutto bene. Ci sono stati dei disagi, secondo lei, in città, ad Arezzo? No, io sinceramente non l'ho trovato i disagi, perché dai, ora non esageriamo, eh. Come ci si ripara dal grande freddo? Qua, ci si copre, si sta in casa, si accende gli scaldamenti tutto il giorno. Se non si può camminare come oggi io cammino, si fa le scale e si fa ginnastica ugualmente. Grazie. Grazie.